E' morta Giuseppina Calone, madre di Massimo Radmieri Aveva 92 anni e da tempo era malata La donna si era aggravata nelle ultime settimane, per questo il cantante aveva cancellato le repliche napoletane del suo ultimo spettacolo E' stato accanto a lei fino agli ultimi istanti La signora Giuseppina era apparsa in tv accanto al figlio in una puntata dello show su Rai 1 «Siamo tutti invitati», citofonare Calone «Senti mai ai messaggi di cordoglio, da parte dei fan, sulle pagine social di Massimo Radmieri» «Senti mai ai messaggi di un uomo» «Senti mai ai messaggi di un uomo» «Senti mai ai messaggi di un uomo»